Siamo stati terremotati anche noi, uso questo termine per esprimere la solidarietà a chi oggi soffre e ai tanti leghisti militanti che sono lì ad aiutare invece che a partecipare al buffet del 2 giugno nelle varie feste. I nostri militanti sono in Emilia, sono nelle terre terremotate, non nei salotti a bere e a mangiare a sbaffo. Da oggi può partire una fase nuova, una fase di concretezza, non di chiacchiere, una fase di azione sul territorio, non di proclami. La battaglia contro Limo è la battaglia della Lega, non facciamocela scippare da nessuno. Io propongo di fare una grande manifestazione con i nostri sindaci in prima fila e con tutti i militanti a metà giugno, il 17 giugno, domenica il 17 giugno, proprio quando il giorno prima è in cui si pagherà l'Imu. Dobbiamo andare in piazza, dobbiamo iniziare la protesta fiscale contro l'Imu. I nostri sindaci devono restituire la fascia se necessario alle prefetture. La battaglia contro l'Imu è una battaglia della Lega, su queste cose concrete ripartiamo. Perché noi non andiamo in pensione, sentivo prima il tragetto che vai per cercare, calma, pensionare, quelli che sono capaci a, non vanno in noi, è diventato andare in pensione a chi ha dimostrato capacità, deve stare qui a lavorare, così stare qui a lavorare.